Prende dunque il via in tutta la Liguria questo nuovo sistema di allerta, intanto qual è la vostra valutazione su questa che è un po' una rivoluzione, anche se ci stiamo abbinando ai sistemi europei? Sì, diciamo che ci uniformiamo ad altre regioni italiane che già hanno cominciato ad assumere questo sistema di allerta, io sono favorevole a questo nuovo sistema perché è più preciso e più ampio e certo che per contro è un sistema che lascia, soprattutto nel caso di allerta arancione, molta discrezionalità al sindaco, e quindi le amministrazioni devono dotarsi per forza di cose, di strumenti che mettono il sindaco nella possibilità di scegliere o di decidere nel modo migliore. A questo proposito noi, per esempio, una delle iniziative che abbiamo intraprese è quella di fare un accordo, un contratto con Achille Pennellatore di Sanremo al fine di poter avere in tempo reale previsioni puntuali della nostra zona che permettano, come diceva il sindaco, di decidere se passare all'allerta rosso oppure se chiudere le scuole, se non chiuderele, insomma, attivare la macchina di protezione civile. Molti comuni si sono lamentati proprio perché così facendo hanno più responsabilità. Sì, indubbiamente le responsabilità aumentano, però la protezione civile è una responsabilità delle amministrazioni, siano esse comunali, provinciali o regionali. È una responsabilità che ci dobbiamo prendere e sono preoccupazioni che dobbiamo avere. Noi abbiamo istituito, cosa che non c'era prima, l'ufficio di protezione civile nel comune di Bordighera, giù al comando di Polizia Municipale. Abbiamo aggiornato il piano di protezione civile che a breve andremo a spiegare ai consiglieri comunali e faremo delle giornate informative soprattutto nelle scuole con gli operatori, con gli insegnanti, con i bambini per cosa fare, come comportarsi, la prevenzione. Ognuno di noi è protezione civile. Si comincia dal nostro piccolo, dalla casa, a fare protezione civile perché crediamo fondamentalmente che l'informazione sia fondamentale. Più i cittadini sono informati, meno pericolo corrono in caso di necessità. Memori poi di quanto accaduto anni fa qui a Bordighera. Io l'ho vissuta sulla mia pelle da cittadino e ho ancora la pelle d'oca oggi per quanto è accaduto. Pochi giorni fa ci ha colpiti di fianco perché i danni che ha fatto nella vicina Francia sono stati veramente impressionanti e queste cose non possono lasciarci indifferenti. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili e tutte le risorse necessarie, sarebbe meglio, per prevenire, per quanto sia possibile prevenire, questi eventi. Grazie. 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 Grazie.